Come annunciamo, noi abbiamo lanciato quest'anno un concorso fotografico aperto a tutti, sono arrivate diverse immagini, molto immagini, devo dire, anche molto significative, in buona parte, e abbiamo selezionato alcune che trovate pubblicate direttamente sul nostro rapporto, ve le faccio vedere, per esempio, quella che è stata selezionata per la copertina del rapporto, è una foto di vista Marcovato, questa che vedete a video, e poi altre foto, siamo Alessandria, Montarlo Poggio, il cantiere della Vede Montana, Revita, in questo caso, come vedete, poi spesso le segnalazioni, il petro è il nostro lavoro, il schema è il nostro lavoro da un altro punto di vista, una foto di Alberto Spoggia, e un altro punto di vista, un altro punto di vista, un altro punto di vista, una foto di Gianni Cialo, e un nuovo rifiuto a fare, foto di Camilla e Giovanni. Queste sono le foto che noi abbiamo ritenuto più significative, e quindi vi invito i presenti, le immagini, sono tre persone, se vi do male, a venire qui sul palco. Grazie. 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 Grazie.